Sono diversi gli eventi nell'ambito delle iniziative promosse per la giornata internazionale dei diritti della donna. Un calendario fitto che parte da Abracciamo la Prevenzione, iniziativa pensata dall'ASP di Caltanissetta per le donne tra i 50 e i 69 anni che potranno prenotare la mammografia nelle giornate dell'8 e 12 marzo. Iniziativa in collaborazione con il progetto Luna e Adossitalia Onlus Gela che riguarda i territori di Caltanissetta, Gela, Mossomele e Niscemi. Alle 15.30 il CEF passa nella sua sede in collaborazione con l'associazione Dalla Tua Parte. E la Croce Rossa italiana ha organizzato la tavola rotonda Dalla Tua Parte, storie di donne e di rinascita. Con la presenza del presidente del CEF passa Roberto Sanfilippo e delle istituzioni cittadine, il prefetto Chiara Armenia, il sindaco Roberto Gambino e con gli interventi del responsabile progetto dello sportello antiviolenza Croce Rossa, l'avvocato Federico Laverde, il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, il direttore sanitario dell'ASP Marcella Santino, il sostituto procuratore Chiara Benfante e Don Alessi a moderare l'incontro la giornalista Ivana Baiunco. Mentre a Marianopoli, nella chiesa madre alle 17.30, il femminile politico, onde donne in movimento e l'associazione Galatea hanno organizzato il dibattito sulla storia di Santina Cannella, la quindicenne che fu assassinata da un uomo, giovane vittima di violenza. Infine, dalle 20.30, al Teatro Regina Margherita, l'amministrazione comunale promuove l'evento Femminissima, uno spettacolo con il quartetto vocale femminile The Cheeky Sister, guidato da Giuseppine Giadone. Uno spettacolo che attinge al repertorio anni 50, con le musiche eseguite da Roberto Vitale e Davide Ferrigno. In scena anche l'attrice Idiletta Costanzo. In scena anche l'attrice Idiletta Costanzo.